Fun! Numbers! Eggman, non farmi venire lì! Sai, Sonic, invece verrai qui perché io ho la cosa che vorresti di più al mondo, vale a dire? Certo! Cosa sarebbe, Eggman? Tua madre? No! Non mia madre, e nemmeno tua madre! Ecco, io ho gli smeraldi del caos, e se non vieni qui e non combatti con me adesso, io ti... Ciao ragazzi, se anche questo breve video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete il solito palicciazzo su e lasciate un commento qui sotto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, nomagana!